Questa scena del film è una scena un po' particolare, è una festa, quindi la gente balla, si diverte e quindi questo ci dà la possibilità anche di aprire su un genere musicale o dei generi musicali un po' diversi dal tono di tutto il resto del film. Bonsoir! Chi sono? Maria Antonietta, dopo la ghigliottina. Potrebbe essere decisamente più ritmata, potrebbe essere qualcosa di hip hop, potrebbe essere qualcosa di techno o anche dell'art rock o dell'artcore. Ecco ricordatevi solamente se lavorate su questa scena che si tratta della festa di Halloween, quindi è gradito un sapore dark se ci riuscite. Grazie a tutti!